Non si è ancora spenta la polemica sui premi ai dirigenti di ACTV che se ne è accesa un'altra sulle gratifiche ai dirigenti di Caffarsetti. Ogni anno escono dalle casse, già molto spremute del Comune di Venezia, 13 milioni di euro, ossia il 10% dell'ammontare del costo del personale, per dire bravo ai dirigenti, tra i quali anche il direttore dell'ufficio di edilizia privata, un ufficio nel mirino da mesi di architetti e ingegneri che lamentano un blocco delle pratiche edilizie e di conseguenza anche un blocco del loro lavoro. Sono i revisori dei conti che hanno deciso di accendere i riflettori su questo capitolo di spesa. Si tratta di cifre che vanno dai 10 ai 30 mila euro per capo e chiedono che gli obiettivi dell'ente vadano fissati prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio e in coerenza con il denaro in cassa. 13 milioni di euro in questo momento costituiscono per l'amministrazione comunale un autentico tesoretto. È l'equivalente di quanto ha incassato l'ente nel 2011 dall'addizionale IRPEF e dalla tassa di soggiorno messe assieme. Anche il PD si interroga sull'opportunità di distribuire questi premi in un documento riguardante il bilancio. Bisogna contenere la tassazione verso cittadini e imprese, scrive il PD, e dunque bisogna contenere le spese. Il funzionamento della macchina amministrativa, scrive ancora il partito, va migliorato anche con nuovi assetti organizzativi che potrebbero coinvolgere maggiormente i dipendenti e motivarli di più. E dunque, non soltanto, con denaro in più in busta paga.